Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, siamo sempre all'interno del percorso che ci porta verso la cella numero 1 nella cripta di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi quella che era una terapia che dava ai penitenti Padre Pio, la terapia dell'attesa, la chiama Padre Marcellino, perché lui scrive, tante volte Padre Pio ha allontanato dal confessionale con un perentorio vai via o vattene, ma lui nel rimandare indietro un fratello intendeva applicare una particolare terapia, cioè questa penitenza dell'attesa alla quale lui dava molta importanza. Il primo motivo per cui adottava questo metodo era costituito dal fatto che il penitente non era ancora del tutto pronto all'incontro con Dio, quindi per imboccare la via della santità è necessario un mutamento, una sorta di spirituale metamorfosi come dice Padre Pio che indica in pratica la conversione. E Padre Pio è convinto che l'attesa fa riflettere mettendo ordine nelle idee ed insegna l'umiltà e diceva è così che si impara ad implorare la misericordia di Dio. Un giorno Padre Pellegrino approfittò per riproporre Padre Pio sotto altra veste la solita obiezione sulla facilità con cui lui rimandava l'assoluzione e gli disse padre lei aiutato da tante anime oranti lavora molto per ricondurre in seno la madre chiesa i figli lontani ma intanto li lascia per mesi senza assoluzione e questo non significa lasciarli fuori dalla chiesa. E Padre Pio rispose non basta entrare, bisogna entrare bene, per te basta che entrino nell'ammasso, per me è importante che entrino preparati, i mesi impiegati per prepararsi a far parte della chiesa sono stati spesi bene, entrare impreparati è lo stesso che non entrare.